Signori, benvenuti su una nuova fantastica serie, iniziamo con Kena Allora, l'abilità delle lutte si ricarica quando subiscono danni, i nemici sono aggressivi E infliggono meno danni L'abilità delle lutte si ricarica solo quando infliggono danni Spirito guida, dai, facciamo una roba Un po' più, eh? Normale, ma non troppo Siamo pronti, signori Un giochino, Kena Per onorare i morti vengono scolpite maschere di legno, posizionate in santuari sacri Queste maschere si riducono gradualmente in polvere per simboleggiare il pacifico viaggio dello spirito verso la vita successiva Non tutti gli spiriti possono percorrere questo sentiero da sole Lottando con le tragedie del loro passato, alcuni indagano i diventati rigorosi Allora, se vuoi anche leggere con calma Bellissimo Bellissimo Un piccolo timer per vedere quanto registriamo Ah, proprio, easy? Cioè, si parte così al brucio? Guarda che bello che è Volo Sono davvero curioso di vedere cosa ci regalerà in questo gioco qua Era uno dei miei most wanted del mese Sì Sì Ah, ok Troppo facile Talmente facile che l'ho già bloccato Perché hai venuto? Mi sento sofferenza qui, spirito Preparoi di aiuto? You know nothing of suffering This is my home My village Turn back, spirit guide Easy Boom, 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 boom Fui Fui Not that Dovip So There are Let's do aho bello scuota Vediamo un po' Dobbiamo sbloccare la porta Graficamente comunque la bomba atomica So che YouTube poi Toglierà un po' di qualità Però secondo me può E' davvero notevole Per ora Non hai il ray tracing Se non erro Va Ma che bello Io faccio sta mossa sempre adesso Sentite che suoni Ma che carini Sono dei bambini Ma che carini Madonna che carino E' una melanzana praticamente E' una melanzana che Bello Accogli It's all right What happened here little guy? Hmmm Yes Vediamo Abbiamo già anche il doppio salto Ottimo davvero Ottimo davvero Oh la madonna che grosso questo Ok, ma ammazza dove vado Adesso ne abbiamo due Abbiamo due Molto carini Allora, quello piccolo ci aiuta a trovare quelli grossi Ma che carini Ma senti che musichette Faccio qualcosa che non so Andiamo a dare un occhio Ok, ma ho trovato un altro Devo trovare cinque Ma sono fatti troppo bene Troppo carini Chiamorini Ma stai che musichette Ma stai che musichette Ok Ok Apro Raccogliamolo E' l'ultimo E' l'ultimo 5 di 5 Livello 1 Il root posso essere La tua squadra di compagni è cresciuta Adesso è una nuova azione root Ah, ok Ah, ok Bello Abbiamo anche la corsa Ottimo Ottimo Abbiamo anche la corsa Perfetto Ottimo Ottimo Benissimo Benissimo Ah, non si arrampica Ah, non si arrampica però Mi sembra di aver capito Però adesso ne abbiamo solo No, tutti e cinque Ne abbiamo, ok Si arrampica Mi mangio tutto Quello che ho detto Ok Ok Che cazzo dov'è Root hanno paura E si sono nascosti Attack di amici Per aumentare Il coraggio In combattimento Spendi coraggio Per eseguire Azioni root Nel mondo Possono formarsi Gocce di coraggio Raccogli le gocce di coraggio Con il tuo impulso Aperto Gocce di coraggio No 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 buongiorno Aggiungo Easy Atacco potente è una bomba Non ti cazunesco Non ti cazunesco Ah ok Ora mi è tutto chiaro Perfetto Ricompensi ne abbiamo? No Molto salvataggio Sta andando benissimo per ora Bellissimo Vediamo un po' come E Inoltre possiamo spostare tre milioni di oggetti nell'ambiente per migliora accoglione un oggetto ai rục dei ruti dove andare mirando poverini mi faccio fare i lavori forzati no dai che cazzo sono queste cose ah ma che carini perfetto qua non c'è niente 25 gemme can you pick that up ok abbiamo tirato su quello e dove ci porta quello a fare scusami in che senso farmi tirare su una roba che non serve a cà va bene era solo magari a livello figurativo ah madonna c'è di nuovo una zona morta oh di nuovo lui mastarda maledetta mastarda maledetta mastarda no let me help you i can heal these spirits and restore balance to the forest i know you are kind you sense the power that flows through this land but you do not fully understand it death and corruption are all that remain here this land can be healed but you cannot stay here spirit you must move on you are the one who does not belong i will never abandon ok germoglio germoglio o p dart souls the tu ma ci senti vai è stato abbastanza facilino per ora per ora è stato abbastanza facilino look Zahia, she cleared away the poison the little guys can eat it they love it my name's Keita what are you two doing out here alone in the forest don't worry about us we've been here a long time to take care of ourselves I can see that Scusate, voglio solo alzare un attimo l'audio dei dialoghi. Ok, il santuario è della montagna sagra. Siamo pieni di affarini adesso. Guarda quanti, che carini. Non abbiamo potenziamenti. Sì, 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 li abbiamo. Premere un attacco leggero. Ah, è vero, è cinquanta. Oh, è esagerata, che è una ginasta. Oh, signor, guarda qua, che bellezza. Inizia ora, signori. La nostra avventura inizia ora e ci lasciamo qui. Ci vediamo al prossimo video. Ci cacciamo, ci cacciamo, ci cacciamo.